Ogni giorno milioni di italiani si mettono in auto per raggiungere il proprio posto di lavoro, comunque per spostarsi da una parte all'altra. Altrettante persone camminano per strada e devono, come dire, condividere il loro percorso con gli automobilisti. A questo proposito ci fa piacere stamattina parlare di guida responsabile con la dottoressa Chiara Ferrari, che ringrazio per essere qui con noi. Buongiorno dottoressa. Buongiorno, ringrazio io voi per l'invito. Bentrovata. Allora, ecco, oggi parliamo di guida responsabile grazie ad un report annuale che funge un po' da barometro. Qual è la situazione in Italia oggi? Beh, diciamo che in qualche modo gli italiani alla guida sono un pochino lo specchio della società, anche se avendo noi la fortuna di vedere gli italiani inclusi in un quadro più ampio degli europei li troviamo, diciamo, allineati agli altri quando si descrivono come conducenti. Quindi quando chiediamo loro se si sentono responsabili piuttosto che irresponsabili, aggressivi, piuttosto che tranquilli, tendenzialmente la scelta ricade su aggettivi molto positivi. Poi però quando si tratta di comportamenti ci raccontano un quadro un po' diverso e quindi per esempio sei su dieci ammettono di insultare gli altri conducenti se non li trovano, come dire, adeguati oppure più di uno su due usa il clacson abbastanza sproposito. Addirittura gli italiani sono tra gli europei e quelli che più spesso scendono dall'auto per discutere con un altro conducente. Quindi siamo diciamo teatrali in qualche modo. Mi sono soffermato su questa immagine che ci vede tante volte esagerare un tantino. Sappiamo che negli ultimi mesi è stato approvato anche il nuovo codice della strada, quindi comunque c'è sempre tanta attenzione sul tema, anche perché purtroppo quella della guida irresponsabile è molte volte collegata anche ad incidenti, incidenti gravi che causano morti e invalidità permanenti. Ecco, secondo lei il nuovo codice della strada comunque potrà segnare in qualche modo un upgrade nel senso ecco della responsabilità di una guida più attenta. Allora, io non sono un'esperta di mobilità, va tuttavia segnalato che in effetti i comportamenti responsabili della guida possono essere davvero tanti e al di là dei fatti, come dice lei, che vediamo riportati dai mezzi di comunicazione praticamente quotidianamente, di fatto gli italiani che noi ascoltiamo ammettono spesso dei comportamenti più che scorretti, quindi mettersi alla guida stanchi o distratti, non rispettare il codice della strada, per cui per esempio la velocità è un comportamento che è praticamente, velocità oltre i limiti ovviamente, che praticamente accomuna tutti, italiani e non italiani, circa 8 su 10 lo ammettono, il mancato rispetto delle distanze di sicurezza che ovviamente nel momento in cui bisogna fermarsi, frenare diventa un grande problema. E poi l'uso delle sostanze. Qui c'è un allarme molto particolare che riguarda soprattutto i giovani e i giovani uomini, che sono dalla nostra ricognizione quelli che più spesso ammettono di essersi messi alla guida sotto l'effetto delle sostanze, alcol o altre sostanze. Questo ovviamente incide sull'attenzione, sulla capacità di guida e quindi questo mette a rischio, come si diceva all'inizio, non solo se stessi ma anche chi con noi condivide la strada, i pedoni, i ciclisti, i motociclisti. Quindi diciamo che i comportamenti alla guida che possono essere sanzionati sono davvero molti. Una stretta probabilmente darà, come dire, un effetto a questi comportamenti. Bene, allora noi ci auguriamo che quando ci si mette alla guida siamo tutti un po' più attenti, perché poi in effetti una buona guida è fatta da un insieme di piccole cose, dall'alacciare la cintura di sicurezza, come diceva lei, a rispettare la segnaletica, i semafori, la distanza di sicurezza. Tante volte magari, ecco, forse una regola non scritta è quella a cui facevamo indirettamente riferimento quando parlavamo delle intemperanze di molti automobilisti. Bisognerebbe avere come orizzonte, come timone alla guida la gentilezza che spesso manca. Quando siamo alla volante è un po' come se fossimo nel set di guerre stellari, come se avessimo dei nemici dappertutto. Invece non dovrebbe assolutamente essere così. C'è qualche altro aspetto che ha colpito la sua attenzione in maniera particolare per questo, in occasione di questo report annuale? Allora, due cose. Una, quella qui accennava lei, e cioè che sembra che quando le persone si mettono alla guida in qualche modo si trasformino, no? Diventano aggressive, diventano pericolose. Questo in realtà i nostri intervistati ce lo raccontano parlando degli altri automobilisti, però c'è proprio questa percezione, no? Che avere un'auto a propria disposizione in qualche modo ci armi rispetto agli altri. Questo, devo dire, è una percezione abbastanza grande e grave. L'altra cosa è che, come diceva lei all'inizio, questo è un barometro, sono 14 anni che noi raccogliamo questi dati, e non ci sembra che i comportamenti virtuosi aumentino in modo significativo o che tutta questa aggressività, questi, diciamo, difetti di comportamento stiano diminuendo. Questo ci colpisce abbastanza ed è per questo che chi ci ha aiutati a fare un po' la sintesi, no? E a trarre quelli che noi chiamiamo poi gli insight, cioè a trarre delle conclusioni da questo, dice in fondo che i difetti della società si riflettono nel modo di guidare. Quindi non c'è in qualche modo un cambiamento positivo, non lo stiamo vedendo. Bene, allora noi ne approfittiamo per fare un appello al cambiamento, a una guida più responsabile e a una guida più gentile, come abbiamo detto, perché siamo convinti che la gentilezza salverà il mondo e soprattutto i pedoni. Esatto. E magari anche, ecco, ci consentirà di guidare più sereni, perché un approccio più tranquillo senza dubbio fa scendere anche i livelli dello stress. Dobbiamo mettere in conto, quando saliamo in auto, che non siamo gli unici automobilisti sulla faccia della terra, ma che appunto condividiamo questa tipologia di spostamento con molti altri automobilisti, tanti altri pedoni che hanno gli stessi nostri diritti di muoversi, di circolare liberamente. Dottoressa Ferrari, io la ringrazio di cuore per questa bella chiacchierata stamattina, sperando sia utile e ispiri questa gentilezza di cui abbiamo tanto bisogno quotidianamente. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi per l'ospitalità, buon lavoro. Buon lavoro a lei e buona guida gentile. Grazie ancora. Noi ci fermiamo soltanto per qualche istante e poi ci ritroviamo di nuovo insieme. Grazie. Grazie.